In Puglia, nella settimana comprisa tra il 14 e il 20 settembre scorsi, è stata registrata una diminuzione di nuovi casi di contagio da coronavirus del 5,1% rispetto ai sette giorni precedenti e l'incidenza di positivi per ogni 100.000 abitanti è pari a 263 unità. E quanto rende noto la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale, da cui emerge anche, che resta sotto la media nazionale, l'occupazione dei posti letto in area non critica Covid della Puglia, pari al 4,5%, mentre più alta l'occupazione nelle terapie intensive, 2,5% rispetto alla media italiana. Per la ASL di Bari, nella settimana tra il 12 e il 18 settembre, sull'intero territorio, la situazione risulta stazionaria. La circolazione del virus varia di una percentuale statisticamente poco apprezzabile, più 2,9%, passando da 132,6 casi ogni 100.000 abitanti a 136,5, con 21 comuni su 41, in cui il tasso di incidenza delle nuove positività diminuisce o comunque resta invariato. Sul fronte dei vaccini, invece, al 7,3% dei pugliesi, con più di 5 anni, che non è vaccinato, si somma l'1,6% di chi non può vaccinarsi perché è guarito da meno di 6 mesi. Il 10,3% degli over 5 non ha ricevuto la terza dose di vaccino, come 4,7%, che non può riceverla perché è guarito da meno di 120 giorni. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è dell'11,7%, mentre gli over 12, che hanno completato il ciclo vaccinale, è pari al 49,3%, a cui si somma un ulteriore 4,6% vaccinato solo con prima dose. Nella provincia di Bari, nell'ultima settimana, si sono vaccinati più di 1.000 residenti, portando il totale della campagna vaccinale a 3.104.477 vaccini somministrati. Le quarte dosi hanno superato la soglia delle 60.000 somministrazioni. In crescita, le richieste del vaccino nella formulazione bivalente, con quasi 1.000 dosi somministrate sinora, è una percentuale del 79% sulle erogazioni totali degli ultimi 7 giorni. Fermere stando le buonissime coperture raggiunte per il ciclo primario e la terza dose, si registra una crescita anche per la protezione con quarta dose o secondo booster. Nella fascia dei 60 anni in poi, infatti, il 18,6% della popolazione target ha ricevuto la quarta vaccinazione, in modo particolare gli ultraottantenni, già protetti per circa un terzo.